Salve a tutti Siamo qui per parlare di Rust quindi vi faccio subito, prima di introdurre me voglio capire chi siete voi quanti di voi hanno mai visto Rust? Linguaggio di programmazione Mozilla ok Stefania grazie ok perfetto, quindi sei una buona platea per imparare quanti di voi programmano a livello abbastanza basso nel senso basso di hardware C? Java? Ah, ottimo dai Askel? Askel? Beh bravo Coraggioso, sì sì, l'ho fatto apposta lo so che sei più coraggioso allora intanto mi introduco io sono Eugenio Petulla sono un Mozilla tech speaker ovviamente sono un full stack developer e soprattutto sono un drogato di open source nel senso che cerco sempre di imparare dai migliori leggo il loro codice e cerco di imparare cosa fanno e tra l'altro la prima e l'ultima cosa in questo caso si uniscono perché ho cercato un nuovo paradigma un nuovo linguaggio di programmazione e quando ho trovato quello di Mozilla che mi piace così tanto mi sono innamorato follemente quindi sono qui a parlarvi di Rust che cos'è Rust? allora intanto vi faccio una piccola cronistoria di come è nato e da dove è nato nel 2009 Graydon Horr che è praticamente un dipendente di Mozilla ha sviluppato come progetto personale un linguaggio di programmazione particolare dopo vediamo perché particolare poi dopo di che nel 2010 Mozilla ha deciso di adottarlo tra i progetti interni quindi ha preso un progetto indipendente l'ha trasformato in un progetto finanziato e sponsorizzato da Mozilla finalmente nel 2012 si è arrivata a una certa maturità perché c'è stata la prima versione del compilatore lasciato e rilasciato prima il compilatore era scritto in C poi piano piano è stato riscritto in Rust quindi si è riautocompilato che è un po' il segno di maturità di un linguaggio di programmazione quando il compilatore è scritto nello stesso linguaggio la prima release stabile è stata nel 2015 e nel 2016 è stato votato come il linguaggio più amato su Stack Overflow cosa vuol dire questo? non che sia il linguaggio più utilizzato ovviamente ma il linguaggio che gli sviluppatori soprattutto di basso livello carnellisti o persone che lavorano con linguaggi compilati di basso livello amavano cioè avevano delle feature che avrebbero probabilmente desiderato avere nel loro linguaggio di riferimento vediamo un attimo perché qui c'è ho anche il sondaggio sì eccolo qui abbattuto Swift di Apple F Sharp Scalago insomma un po' di Go tra l'altro è considerato uno dei più grandi contender di Rust anche se non fanno proprio esattamente la stessa cosa ma siccome vista anche la diffusione e la spinta da parte di Google nell'adozione di questo linguaggio tante persone preferiscono approcciarsi a Go invece che a Rust io vi consiglio invece di dare una possibilità a Rust non tanto perché vengo dalla famiglia ma quanto perché è un linguaggio veramente bello adesso andiamo a vedere perché Rust è un linguaggio di programmazione fondamentalmente ha il suo focus nella sicurezza cosa vuol dire sicurezza nel senso che il compilatore vi picchia parecchio le prime una o due settimane passerete a picchiarvi col compilatore per far uscire qualcosa perché è un po' come Haskell è un linguaggio tipizzato completamente è un linguaggio che tra l'altro non vi permette una gestione della memoria ma perché è orientato al multi-trade qua vedete concurrency, safety e speed sono i goal del linguaggio perché di base è già orientato al multi-trade quindi non gestirete la memoria dimenticate i main lock e cose varie con Rust non esistono adesso vedremo anche perché e come cosa c'è? allora intanto dentro Rust ci sono ovviamente puntatori e thread con memoria condivisa quindi potete tranquillamente giocare come ho detto con il multi-trading andiamo avanti rapidamente però non avete dangling pointers perché per l'appunto non c'è non essendoci il garbage collector che vi entra dentro e vi tronca via parti di roba quando non dovrebbe vi evita memory leaks e ovviamente concurrency quindi data raise tra i vari dati non c'è assolutamente neanche con altri linguaggi perché poi vedremo che Rust riesce in realtà ad integrarsi molto bene con altri linguaggi e lo fa in una maniera molto furba per proprio impedire il data raise come alloca la memoria? ovviamente non ha un garbage collector non ne ha bisogno questo perché fondamentalmente è pensato per scrivere codice embedded o codice per l'appunto di kernel o comunque molto a basso livello in realtà adesso stanno iniziando anche a scriverci roba un po' più ad alto livello ma anche microservizi e roba funzionale questo perché comunque sia essendo un linguaggio safe l'unica cosa che dovete di cui vi dovrete preoccupare una volta compilato è quello di aver fatto aver scritto bene la business logic poi per il resto state tranquilli che non andrà mai per l'appunto in buffer overflow e cose varie quindi è molto sicuro e a basso livello è perfetto ci hanno anche riscritto un sistema operativo un linux completamente in rust ultimamente tra l'altro viene utilizzato tantissimo da compagnie come core os che ne fa scrive tantissimi tool in rust e in go questi sono i due loro linguaggi questo perché comunque sono robe piattaforme loro core os installato di solito in sistemi di alta scalabilità online quindi ha bisogno comunque di sicurezza ok come vi ho già detto non ci sarà mai il garbage collector che uscirà fuori in tempi inopportuni da rompervi le scatole e poi integrarli con altri linguaggi come vi dicevo con il suo runtime ad esempio con javascript per questo viene utilizzato anche per fare dei microservizi perché potete fare una commissione delle due cose però il problema di questo grande linguaggio è che non ha tantissime librerie perché è nuovo quindi ha bisogno di questa cosa qui cioè può essere collegato linkato a C alle sue librerie quindi a tutto l'ecosistema in C immaginate comunque C è un linguaggio così antico e utilizzato che ha una pletora di librerie anche matematiche scientifiche insomma che vanno oltre quello che Rust si può permettere oggi perché come abbiamo visto è un linguaggio giovanissimo e voi penserete a questo punto ok però se Rust è safe c'ha tutte queste cose C non è safe linkare le due cose non è proprio il massimo in realtà anche questa cosa qui è una è stata risolta puoi tranquillamente collegare le due cose ma il codice in C e tutta la parte C viene isolata dal resto del codice Rust e quindi viene gestita in un altro modo in modo da poter comunque imputare poi qualsiasi problema di memory allocation alla parte C e comunque avere il codice in Rust completamente safe che è una cosa ovviamente fighissima e tra l'altro se siete sviluppatori C dovreste apprezzare il fatto che vi diamo la possibilità di usare qualsiasi libreria usate fino ad oggi il Rust compiler si chiama Rust C è scritto in Rust come avevo già detto prima e ovviamente è l'apoteosi è arrivato al compimento del suo ciclo di scrittura perché quando un compilatore per l'appunto viene scritto nel linguaggio stesso di solito si è arrivato della stabilità diciamo e però integra dei tool moderni molto moderni che vi faranno se siete programmatori C soprattutto ma anche Java vi faranno apprezzare anche la logica con quale è stato pensato il linguaggio cioè Cargo è un package manager però io lo considero anche un project manager perché con questo tool potete lanciare un nuovo progetto cioè dirgli proprio fammi creami un nuovo progetto vi faccio vedere come ah ok prima di farvi vedere come aspettate vi gestisce sia i pacchetti che si chiamano crates in questo caso quindi sono le librerie banalmente le librerie che trovate anche sul sito crates.io ma ve le gestisce Cargo attraverso un file dove potrete anche bloccare le versioni delle librerie e dirgli aggiornati automaticamente alla release un po' come fanno ormai i linguaggi moderni tra l'altro io dico anche un project manager perché non so se ci vedete bene ma qui c'è scritto Cargo new hello world meno meno bin e lui in automatico ti crea un progetto con già i binari cioè la parte per poi poter dove poter ripescare i binari compilati ma anche tutto il resto della struttura del progetto e vi da un pattern che è il pattern corretto cioè non è che vi inventate il pattern e poi c'è chi mette le cartelle main cose varie no vi crea già un pattern abbastanza usabile infatti se fate cd hello world vedete che nell'albero fa dato un tri per vedere come è l'arbero delle cartelle vedrete già che lui va fatto un file toml che serve per indicare per l'appunto le librerie all'interno e bloccarne le varie versioni se volete o chiedere sempre l'ultima poi va fatto una cartella src dove avete per l'appunto il sorgente in rust e nel momento in cui compileretevi creerà anche la parte binaria e in più se mettete delle cose che devono essere scaricate andranno nella cartella lib e così via quindi diciamo un project manager a tutti gli effetti vi da già il pattern con cui sviluppare il progetto questo tanti altri linguaggi non ce l'hanno nella rottura di scato di solito anche impararlo il pattern qui si con una botta di linea di comando avete tutto quello che vi serve come è l'anatomia di un toml di un file toml di cargo è così datevi il nome del pacchetto la versione l'autore che siete voi in questo caso e poi da lì in poi iniziate a scriverci guarda dentro si al manifest altri linguaggi hanno dei manifest ad esempio adesso ultimamente va tanto con node queste cose qui javascript ipser fighette e in questo caso è un manifest molto mutuato da quel mondo lì e contiene tutti i metadati per compilare il progetto fondamentalmente tra cui per l'appunto le librerie andiamo a vedere un attimo com'è l'hello world classico di Rust per farvi entrare un po' nella filosofia dichiarazione della funzione nel main nel main loop ecco qui println lo word semplicissimo sembra veramente qualsiasi altro linguaggio parte quasi simile in maniera quasi simile e poi vi potete sempre tramite cargo richiamare il compilatore in vari modi perché ad esempio c'è questa modalità qui vi fa la build come vedete lui richiama il compilatore e vi compila lo word e vi dice il path dove l'ha inserito dove l'ha scaricato ecco qui per l'appunto come il funzionamento l'ha eseguito semplicemente il binario e lui mi ha detto hello world oppure potete invece che costruire direttamente fare la build che magari in progetti un po' più seri di un hello world ci metterebbe un po' di tempo invece potete direttamente dargli un comando run che vuol dire compilalo ma senza ottimizzarlo ok è molto comodo quando sviluppate dovete vedere subito il risultato perché per l'appunto l'unica cosa potreste a parte potrete volete magari vedere gli errori dal compilatore per capire come debaggarli ma tra l'altro è la modalità che si utilizza molto spesso per risparmiare quella mezz'oretta di compilazione su grosse code base e che vi dà la possibilità anche di fare il run stesso di quel programma e di controllare la business logic che è l'unica cosa che come ho detto prima potreste fallare poi che se passa il compilatore poi di solito funziona andiamo a vedere la sintassi la sintassi è un po' macchinosa ma nel senso che se non siete abituati a lavorare con variabili mutabili o immutabili potrebbe essere un problema vi faccio vedere perché perché le variabili sono immutabili di default questo è perché il rust deve gestire la memoria l'allocazione della memoria quindi fondamentalmente deve sapere cosa tenere o cosa non tenere in memoria prima ancora di siccome a voi non è data poi la scelta di allocarla o di allocarla ovviamente deve fare tutto lui per fare questo deve capire cosa è immutabile o cosa deve variare quindi cosa tenere in memoria stabilmente le variabili di default sono immutabili e vi basta dichiarare con in let quanti di voi hanno mai usato linguaggi che hanno let variabile perfetto poi tra l'altro anche le ultime versioni di javascript per chi fa un po' dipsterismo a questa cosa qui a elixir se non sbaglio poi ne usa tantissimo esatto esatto allora con let variabile uguale 4 questa variabile non muterà mai è una variabile immutabile ok quindi viene potrete variarla in uno scope diverso dallo scope della funzione in cui la dichiarate però in realtà è una variabile immutabile sempre perché in quel caso stareste dichiarandone un'altra in realtà non è proprio la stessa però la variabile ovviamente possono anche essere mutabili cioè è possibile farle mutabili e semplicemente dirgli let mut e a quel punto diventa mutabile potete anche bindarla con un'altra variabile altra cosa ovviamente si lavora tanto di scope e di shadowing perché comunque sia per sua natura è molto difficile per l'appunto essendoci tantissime variabili immutabili è molto difficile creare quelle situazioni che ci piacciono tanto a noi sviluppatori un po' sporche perdonatemi dove ha delle variabili assegnate in un processo n valori differenti e se non ci fosse lo scope se non si usasse veramente pesantemente lo scope e lo shadowing sarebbe difficile farne un linguaggio utilizzabile che inizia a diventare pesante tra l'altro la forte tipizzazione vi rompe parecchio le scatole quindi siete in un mare di cacca sperdonatemi il termine i primi due settimane passerei da dire perché ho scelto questo linguaggio cosa ho fatto di male in questo caso vediamo come utilizziamo lo scope e lo shadowing come si utilizza e cosa risulta ad esempio in questo caso abbiamo detto che la x 132 e scusate un tera 32 è uguale a 8 e poi però dentro gli mutiamo il valore dentro uno scope differente vedete che riusciamo a farla risultare anche 12 in questo caso era una variabile immutabile e l'abbiamo mutata dentro lo scope stessa cosa invece fuori dobbiamo ridichiararla per fargli mutare il valore vedete e quindi però è semplice in realtà con questo trucco qui farsi delle variabili immutabili e poi mutarsi dentro lo scope di una funzione magari di una parte porzione di codice possiamo passare dei valori vediamo come passare i valori alle funzioni questo è veramente basico perdonatemi ma per farvi entrare nell'ottica considerate che le funzioni in Rust sono quasi tutte espressioni anzi in realtà sono espressioni ritornano quasi sempre un valore anzi devono ritornare al 100% un valore non sono mai fini a se stesse e questo vi permette in questo caso qui vi permette appunto di passare un valore a una funzione vedete direttamente da come fate classicamente con tutti i linguaggi di programmazione potete ritornare un valore come vedete siccome il linguaggio è espressivo quindi avete un'espressione per ogni cosa ritorna automaticamente qui non c'è neanche bisogno il punto e virgola se vedete è una cosa che in altri linguaggi raramente si vede mettercelo è brutto cioè considerato brutto il codice brutto cioè ve lo cassano ve lo dico perché ho provato a pushare su alcuni repo roba con punti e virgola ho detto che è sta mondezza togli tutto e via giustamente si impara dagli propri errori perché è un linguaggio principalmente basato sulle espressioni e ci sono solo due tipi di di statement quindi qualsiasi altra cosa è considerata un'espressione in Rust ok vediamo ah si vi ho fatto anche degli early return per farvi vedere esatto che cos'è un'espressione in questo caso mettendoci il punto e virgola come ho detto prima la funzione si fermerà lì questa parte di codice non sarà mai eseguita ok per quello fare quella cosa prima col punto e virgola è brutto funzionerebbe perché si fermerebbe lì l'espressione però in realtà se qualcuno volesse aggiungerci qualcosa poi si bloccherebbe si può fare esatto ho fatto non neanche lo ricordavo ecco questo è pure style me l'hanno commentato così il codice su github mi hanno scritto pure style buh pure style ci sono le if ovviamente però vedete notate anche questa cosa essendo un'espressione in realtà si può mettere tutto in linea e quindi in realtà la cosa che conta è l'ultimo valore uscito da da tutto questo flow perfetto ogni volta mi anticipo non mi ricordavo che ho messo sta roba ok questo è un loop infinito come vedete vi dichiarate loop e da lì in poi tutto ciò che c'è dentro continuerà a looparlo senza condizioni cioè ci sono i loop in while ovviamente sono molto eleganti secondo me in confronto a tanti altri linguaggi è molto più sintetico però è molto elegante ditemi se non capite qualcosa e la spiego nel profondo ora siccome è tanto materiale cerco di andare un po' più veloce soprattutto perché ho visto e programmate tutti quindi alcune cose sono abbastanza chiare sì mi dispiace un po' del contrasto se vuoi possiamo fare qualcosa per contrastare le slide in nero ok spegniamo il sole perfetto facciamo così no purtroppo mi dispiace allora facciamo così vi lascio il link poi alle mie slide vi andate a guardare un po' ma tanto queste sono tutte cose se iniziate vi consiglio di andare su Rust Playground in modo da poter poi giocare con con tutta la documentazione è veramente documentatissimo come linguaggio c'è un playground stupendo siccome lo potete compilare ed eseguire a runtime attraverso anche un server è stato messo a disposizione un playground interattivo istantaneo dove voi scrivete il codice lo eseguite e quello viene eseguito istantaneamente all'interno del sito web ovviamente è una sandbox ci sono i loop con le for vedete la leggerissima differenza tra C e Rust provo anche a zoomare magari aiuta perfetto neanche si zoom la differenza tra C e Rust fondamentalmente sta in questo intanto nel fatto che vedete il for è definito in C con delle diciamo progressioni mentre in Rust ti bastano dei puntini di sospensione ad esempio per dargli un range in questo caso qui è favoloso perché io l'utilizzo tantissimo ho voluto mettere questo perché per me è tipo droga quando programmo un range così non lo fa quasi nessun linguaggio di programmazione forse l'ho visto in Haskell una cosa del genere ecco questi sono i loop on range nel senso che io do il valore che deve stare in query mentre prima iterava da 0 a 10 in questo caso deve controllare un valore ok quindi io gli do l'indice il valore e poi faccio un enumerate in questo caso me lo stampa anche questo è uno stile molto sintetico nel senso che è un loop del genere fatto in in C vi richiederebbe almeno 5 o 6 righe di codice mentre qui sono due compresa la parentesi poi dipende qual è il vostro stile in realtà potrebbe essere anche una sola se siete parecchio bastardi se non volete farla leggere i vostri colleghi fate una riga sola ecco qui che vi dà l'indice e il valore anche i loop sugli iteratori anche qui vi bastano i numeretti in realtà e avete risolto anche questo lo trovo molto elegante è un'altra cosa che mi ha fatto innamorare di Rust quindi la la spingo sempre tanto ecco qua questo è il risultato sempre due righe di codice si sono sempre esempi molto basilari però immaginatevi quando avete tantissime cose da processare e averci piccole funzioni così sono mantenibili benissimo poi ci sono anche i break cioè potete rompere l'iterazione ovviamente del loop come quasi tutti i linguaggi questo anche ve lo spiego ficcate un break che avete fatto con una condizione possibilmente se no altrimenti rompete sempre oppure potete fare il contrario quindi in continuo in caso di ok questa è molto molto basica alle strutture ovviamente potete dichiarare delle strutture quasi la medesima maniera in cui le dichiarate in C è un po' più libera ma ci stiamo e si lavora molto di match perché pattern matching fondamentalmente è uno dei forse anche prima di anticiparmi vediamo se ve l'ho messo ok perfetto è uno dei trucchetti che utilizzo più spesso per fare una conversione ad esempio tra interi e string perché essendo un linguaggio fortemente tipizzato puoi portare un intero e una stringa a un bagno di sangue ad esempio questo è un trucco facilissimo fate un pattern matching e dall'intero trasformato in stringa tutto ciò che esce da qui ricordatevi che comunque è espressivo quindi quello che esce da lì sarà un risultato unico ecco qui che avete un intero trasformato in una stringa con un colpo solo perfetto adesso vi faccio vedere un piccolo guessing game oh un piccolo guessing game con l'inclusione di alcune librerie perché comunque a fare guessing game vi serve una libreria random ad esempio utilizzate la standard library che ha internamente rust che è un po' più limitata della standard library di C ovviamente anche di java e anche di altri linguaggi di programmazione questo perché comunque si avendo a parte il binding con C ma avendo anche tantissime librerie dentro un repository quindi diciamo importabili facilmente di facile gestione è molto più facile spacchettarle in più cose differenti che ficcarvi tutto nella standard library a livello matematico la trovo un po' carente purtroppo perché comunque adorando la matematica però ha tantissimi crate quindi ti basta dichiararlo con extern crate che era quello che ho fatto dire prima con i pacchettini e la libreria che vi serve lui la importerà dentro al al vostro progetto poi uso la standard library vabbè qui ci sono altre cose che mi servono per crearmi il random e con queste righe di cose ci ho fatto un guessing game cosa vuol dire lui ti chiederà ti stamperà una richiesta di inserire un numero tra 1 e 100 in modo che voi provate a indovinare il numero che lui ha fatto nel loop input your guess fai una variabile mutabile che per l'appunto si prende una stringa mi dispiace che non lo leggiate bene raccontarvelo non è così bello come leggerlo di solito però lo trovate comunque sul mio github se volete ci sono parecchi esempi tra l'altro ho fatto per chi di voi sviluppa in C ho fatto un piccolo package una piccola collezione di codice che avevo scritto in C per l'università che ho tradotto poi in Rust per far vedere le differenze di style poi vi do tutto ovviamente lui si aspetta di ricevere un input nel caso in cui ah l'altra cosa Rust vi richiede una gestione degli errori bella presente nel senso che dovete in tutte dovete sempre gestire gli errori allora questo è una regola generica di tutti i linguaggi di programmazione dovete sempre gestire gli errori poi non lo fa mai nessuno lo fanno chi ha bozzi chi ha buchi Rust ti richiede fondamentalmente a gestire gli errori ci sono dei metodi un po' zozzi per soltare questa cosa ovviamente lasciare magari le parti vuote oppure di gli ritorna una cosa falsa ritorna ritorna mi falso ovvero non lo dovreste mai fare cioè perché se il linguaggio vi diciamo vi sprona a gestire gli errori in maniera corretta dovreste comunque utilizzarlo in maniera corretta in questo caso semplicemente stampo un fail to read line dentro al log o a schermo e a quel punto ve la gestisce così e in questo caso vedete quando io gli do un di parzarsi quella stringa che che gli passi se è un numero ok il caso in cui va tutto bene ok se è un numero continua l'esecuzione del programma se c'è un errore ovviamente in questo caso saltiamo la gestione degli errori perché siamo dei cani e andiamo avanti a richiederti di nuovo l'inserimento del potremmo fare ad esempio gestire loro con una callback o un'altra funzione che a sua volta magari prova di interpretare quella cosa che gli ha inserito dicendo ok magari hai inserito 12 però è S vicino ti taglio via la S e prendo il 12 ok ci sono vari modi questo era per essere più sintetico possibile ti stampa cosa il numero che hai per l'appunto provato ad indovinare a quel punto col pattern matching ti dico se è più grande o più piccolo del numero che ho generato con RAND e così via e vado avanti ok fino a che quando non è uguale ovviamente ti dice hai vinto e finisce il gioco quindi qui vediamo un po' tutto ho fatto un esempio che può inserire tutto un loop una generazione di un numero random tra 1 e 101 e poi tra l'altro questa libreria è un random anche abbastanza randomico si avvicina abbastanza a quello che io considero un random accettabile non basato proprio sul millesimo di secondo nel clock però ci stiamo si anche quelle sono molto belle si si entropia esatto ma io ne ho visto alcune fatte che ti consigliano di metterti le lava lamp a casa e ti dice mi collego alle tue lava lamp e prendo sono bellissime però insomma si si vanno un sacco ma io lo so è una cosa che anche io adorerei avere in casa però averci otto lava lamp per generarmi i numeri random insomma sembra un po' si ottimo buono a sapersi c'è una libreria che fa questo? buono eh considero comunque si vede che si vede attenti alla matematica tanti altri non sanno neanche cacchio perché la randomicità dovrebbe essere così randomica però esattamente a quell'ora a quel millesimo di secondo hai sempre lo stesso risultato esattamente esattamente però ti posso dire che la loro libreria rande che ho testato ad esempio va sia sul millesimo di secondo del clock ma prende altri fattori anche dal pc che adesso sinceramente non mi ricordo quali siano si randomize in c fa così esatto è molto simile alla randomize di c e prende altri fattori in modo che sia esattamente esattamente quindi questa parte qui ti ripeto non ha una grandissima standard library matematica però potendo attaccarci anche c o roba sua insomma ne trovi poi di fighe ho trovato anche un crate per l'appunto per agganciarsi alle lava lamp e fare sta roba qui la webcam in Rust in Rust c'è gente pazza che fa queste cose qui anche in Rust è bellissimo poi ne parleremo allora quali sono gli attuali ostacoli di Rust perché comunque non è che ha cose bellissime è safe multitread nativo non dovete allocare memoria funziona benissimo il linguaggio tra l'altro è rapidissimo si compila su tutti i sistemi operativi non ha limiti di questo basta avere ovviamente la macchina per compilarlo perché vi tira fuori un binario e fate girare ovunque però ovviamente ci sono degli attuali ostacoli allora intanto la learning curve la learning curve quello perché comunque sia come avete visto non è proprio un linguaggio semplicissimo essendo molto sintetico avendoci comunque tante funzionalità moderne chi viene da C o chi viene da Java si deve trovare si scontra con alcune difficoltà e quindi è una learning curve molto 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 alta però di contro una volta imparato una volta superato questo ostacolo avrete vi ripeto un linguaggio di programmazione che è una scheggia soprattutto sugli embedded provate è veramente una scheggia sfrutta al centesimo ogni possibilità della vostra CPU è veramente bello poi c'è una mancanza di libreria perché il linguaggio è giovane e come vi ho detto ovviamente i crates ci stanno ma magari sono sono in alfa e questo copre anche un po' il terzo punto cioè la maturità ovviamente se bisogna scrivere delle librerie c'è un framework bellissimo che sta nascendo in Rust che si chiama Tokyo Tokio e che tanti utilizzano per fare microservizi adesso perché comunque si ha parecchie cose dentro poteva aprire un server web così con con un richiamando una funzione insomma un framework abbastanza sta diventando quasi un standard de facto per chi scrive in Rust però ovviamente lo trovate ma è in versione 0.8 beta e è una delle versioni più mature è uno dei software più maturi che troverete dentro i crates ci sono dei crates che stanno in alfa 0.1 alfa quindi c'è un po' di problemi di maturità ancora però vi ripeto studiarlo oggi per poterlo applicare domani e tra l'altro se le cose le scrivete voi non avete bisogno di appoggiarvi al libreria esterni è un linguaggio maturissimo utilizzabilissimo guardate per l'appunto CoreOS Mozilla ci ha riscritto pezzi di browser poi lascerò un attimo 5 minuti a Stefania che vi racconta cosa ci ha fatto Mozilla c'è una mancanza di una IDE vera e propria dedicata a Rust anche se in realtà adesso si sta integrando in quasi tutte le IDE ho visto ad esempio tante persone utilizzano NetBeans e si integra a NetBeans senza problemi io addirittura le integro negli editor di testo perché tanto comunque la maggior parte delle cose la fa il compilatore quindi basta avere una shell oppure magari fate un pipe degli errori del compilatore su un file di testo e non c'è bisogno neanche di avere una IDE però io sono un amante dei text editor anche per questa mondezza qui scusatemi ma sono mi piace la velocità mi piace averci la pagina bianca e basta senza troppi tool che straniscono però ho visto gente che ci lavora con NetBeans gente che ci lavora con i Clipes iniziano a esserci non c'è una IDE ufficiale consigliata potete usare quello che Diamine vi pare e ve lo supporta tra poco si sta iniziando a puntare anche a farci qualcosa di più specifico o magari legarsi a qualcuno che sviluppi dei pacchetti ufficiali ovviamente poi c'è anche il problema delle performance del compilatore perché comunque sia lavora a due livelli uno anche è quello che vi dicevo lavora a runtime vi può compilare le cose live in diretta magari da un server web ovviamente in quel caso lì non è performante come il concorrente che è Go che fa la stessa identica cosa utilizza l'LVM al momento sì si appoggia all'LVM però se vedi anche Go in realtà quindi però Go lo fa con diciamo almeno la metà del ci mette la metà del tempo di quanto ci mette il compilatore però perché non è studiato per quello immaginate che adesso piano piano anche lì ci saranno implementazioni vabbè queste sono opinioni preferisco non sbilanciarmi ti dico che preferisco Rust però per motivi miei ok qual è la roadmap quindi abbiamo visto quali sono gli attuali ostacoli ovviamente più ci sarà poi adozione più parte di quelle cose lì andranno spuntate perché la maturità ovviamente se inizi ad avere una community ancora più ampia la maturità la raggiunge in veramente meno tempo quali sono la roadmap la potete trovare intanto su github rust trattino lang rust roadmap e trovate direttamente la roadmap scritta ufficiale che si aggiorna questa ad esempio che ho preso ieri del 2017 di fine 2017 in realtà di dicembre allora intanto ovviamente quello di abbassare la learning curve questo come si fa aprendo siti community gente che vi spiega live come cacchio funziona anzi se poi avete dubbi o qualsiasi cosa volete cimentarvi scrivere il primo script rust venite al boot di mozilla ci sono io c'è un ragazzetto di 19 anni ci si è appena messo e sta impazzendo in senso positivo dietro al linguaggio quindi questa cosa qui la stiamo piano piano risolvendo intanto se andate a vedere l'academy come si chiama non ti ricordi forse ce l'ho nelle slide più tardi ok c'è un sito che è completamente dedicato all'imparare rust tra l'altro con esempi by examples e quindi vedete sì rust book anche esatto quello però è proprio la documentazione più ok poi vi faccio vedere la seconda cosa è ovviamente avere un un ciclo di edit compile and debug che sia consistente o continuo diciamo perché al momento mancando la IDE mancando gli strumenti dovete comunque passare tra la shell l'editor vostro personale il debugger da un'altra parte è ancora un po' macchinoso però in realtà io lavoro con tre schermi quindi non ho problemi magari qualcuno di voi non ha questa fortuna oppure non gli piace ovviamente provvedere ad una IDE un'esperienza con una IDE che sia per l'appunto seamless che abbia tutto quanto all'interno accesso a crates di alta qualità cioè adesso non si votano i crates però per esempio una delle idee che avevano internamente era quella di inserire una specie di rating per il crates in modo che alcune librerie potessero risultare migliori di altre per fare certe cose perché erano più stabili erano più sviluppate o avevano più contributor o più utilizzo ovviamente quello di essere equipaggiati per scrivere server di alta scalabilità perché al momento ha funzioni cioè tutta questa parte diciamo dell'online viene delegata ai framework che ne stanno nascendo sopra come Tokyo quando Tokyo diventerà stabile probabilmente sarà il go to guy per fare questa roba qui al momento poi tra l'altro lo stanno utilizzando in tante altre cose ho visto ho incontrato uno sviluppatore di Badoo a una conferenza a Roma e loro per esempio lo usano in alta in gigantesca scala per proprio la parte web per fare dei microservizi me lo ricordo perché ha fatto un talk bellissimo e sono rimasto scioccato di cosa ci facevano interessante facciamo matching ovviamente avere almeno 1.0 crates per le cose essenziali ad esempio senza andare a rompere le scatole AC per una randomizzazione seria magari averci librerie matematiche adesso va tanto il machine learning immaginate o il deep learning immaginate averci un linguaggio così performante multitread di base che non vi richiede all'ocam memoria bla 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 per fare quella roba lì quindi averci delle librerie matematiche che magari riescano anche a battere python tra un po' cosa che la vedo lunga ma ce la potranno fare ovviamente integrazione in grandissimi build system perché al momento tra l'altro non ci sono anche pipeline già dedicate su su grossi diciamo player ad esempio Atalassian non ha una pipeline dedicata a Rust ce l'ha? ah ce l'ha adesso? ah benissimo allora toglierò questa cosa perfetto via così facciamo finta che non ve l'ho detta e ovviamente una cosa che manca è il mentoring che però stiamo provando come vedete a tappezzare se volete fare mentoring se volete avere qualcuno che vi aiuta nei progetti scrivete fate perché comunque cerchiamo di diffondere più possibile il linguaggio per creare una community all'epoca c'era così poca gente che contribuiva a Rust che era impossibile anche dedicarla a fare mentoring oggi si sta un po' allargando la platea quindi questa cosa è possibile e ovviamente abbiamo delle aree di esplorazione della roadmap nel senso che non sono state fissate nella roadmap ma che probabilmente c'entreranno che è integrarlo con altri linguaggi di programmazione che vanno al di fuori di C o di JavaScript che da oggi sono praticamente i due linguaggi più integrati in Rust perché considerate JavaScript per il frontend e C per tutta la parte di librerie e di cose che Rust non ha e ovviamente quello di migliorare sempre di più le performance in ambienti veramente limitati con risorse fortemente limitate quindi ARM processori veramente un po' strizzati perché è orientato agli embed dove me l'ho fatto vedere prima detto questo vi lascio solo due link per vedere tutto allora c'è Rust Lirk IRC di Mozilla ci sono i canali Rust Rust Beginners e così via così che potete collegare come al solito in stile Mozilla c'è IRC ci sono tutti i canali dei progetti c'è questo ci sono questi ogni tanto incontrate anche me forse anche tu Stefania vai IRC ah sei su Slack perfetto e se è più moderna io purtroppo vado ancora con roba ok poi c'è un forum che è user.rustlang.org ah ricordatevi che rustlang.org è il sito poi di Rust fondamentalmente questo è il forum ok vi loggate potete conoscere gente tra cui c'è anche Greydon tra l'altro visto che è molto attivo il creatore poi c'è Reddit quindi slash r slash rust anche qui c'è un sacco di gente anche qui trovate me che dite che palle se sono anche qui c'è il meetup io ho scritto anche a Roma perché ovviamente sono di Roma e abbiamo un bel meetup ma stanno nascendo in giro per tutta Italia tra l'altro Torino Stefania beccate lei quindi ce ne sono altri c'è anche Milano ah si è vero c'è anche Milano esatto comunque la teoria qui dei meetup di solito è sempre la stessa vale per qualsiasi community se il meetup nella vostra città non c'è il meetup siete voi createlo quindi si può fare c'è una pagina su github con tutti i meetup del mondo c'è una pagina su github con tutti i meetup del mondo e tra l'altro fanno anche il rust fest che è questa festival su rust che si fa in Europa ma adesso in varie tappe lo stanno provando a portare anche in Italia a Roma sì c'è Enrico Risa che sta facendo questa diciamo sta provando a portare questa esperienza a Roma e Mozilla Italia sta cercando di costruire una community nazionale sul rust quindi venite a parlare se siete interessati anche solo per entrare in contatto venite a parlare con me o con Stefania e cerchiamo un attimo di farvi capire qual è il modo più giusto per approcciarvi e questo linguaggio ora prima di ringraziarvi definitivamente questo è il link alle slide intanto se volete perdonatemi il rosso non pensavo ci fossero 70 sole però prima di lasciarvi voglio lasciarvi un attimo il microfono a Stefania perché lei si è occupata di tante cose di rust e Mozilla vi può spiegare cosa ci fa realmente poi Mozilla con sta roba qui e cosa c'è in Firefox fatto in rust oggi grazie le domande poi le fate dopo magari sì al momento nella nascita di rust si è creato negli anni successivi proprio un progetto di cui c'è anche una buona wikipage chiamata Oxidation in cui ci sono tutti questo programma Oxidation era come mettere rust in produzione in vari progetti Mozilla in particolare se magari avete sentito questo Firefox Quantum era un vero e proprio progetto in cui diverse parti del progetto che in questo momento ha più linee di codice in rust chiamato Servo che è un browser engine da qui hanno preso diverse parti in particolare l'hanno utilizzato per rendere in delle pagine del CSS del DOM quindi tutto come? il motore dei video sì il motore dei video anche ha ridotto il 50% ha ridotto il 50% di crash su Firefox scrivere il motore dei video e riscriverlo da C a Rust questo è per farvi un'idea di quanto il linguaggio sia safe sì infatti è bellissimo vedere anche proprio le statistiche di quello altri progetti in corso c'è Deep Speech che tra l'altro è un progetto di speech recognition che in questo momento è anche un create in Rust che si può andare a implementare ho visto che tra le varie compagnie che appunto come citavo Eugenio c'è CoreOS Atlassian c'è anche Dropbox Deliveroo che stanno iniziando ad usare Rust in particolare ho visto che c'è anche dato che si parlava di machine learning c'è un progetto chiamato Autum che in questo momento ha 16 librerie in Rust si è definito il posto in cui trovare machine learning in Rust in questo momento e poi ci sono anche dei progetti a sé ad esempio c'è Rust AV1E che è un AV1 encoder per video encoder e si sta un po' stociando in realtà tipo WebAssembly c'è una libreria che si chiama WebAssembly Airgame che sarebbe un framework per Rust per giochi su browser in Rust insomma e poi ci sono diverse compagnie c'è una pagina anche dedicata in Rust Lang slash friends mi pare in cui è carino perché l'aggiorno e ci sono poi anche le pagine tipo al blog in cui vanno a spiegare anche come è stato implementato in diverse cose come citavo a primo genio la Slack che citavo è una Slack della comunità italiana in cui è carino perché si può parlare se volete organizzare una vostra città creiamo un canale una room e ne parliamo insieme e poi c'è Rust Fest come citavo quindi siete tutti benvenuti a provarlo insieme o andare insomma imparare online online e ci troviamo tutti lì alla fine ok faccio la parola per domande se posso continuare intanto grazie Stefania che va bene avete domande su questa cosa sicuramente sarei rimasti con mille dubbi però cerchiamo di farle è da provare esatto prima dovete metterci le mani lui è quello che ci si è messo a giocare vi ho detto il ragazzo giovane che è impazzito a lui vai in che senso ogni volta io quando sento queste cose esatto quando sento queste cose direi chi è il programmato chi è seduto tra la sedia e il computer perché di solito è quella il collo di bottiglia sì sì grazie aspetta usa il microfono che non ti sento neanche io il punto di Rust è che fondamentalmente puoi estendere qualcosa di unsafe e renderlo safe e questa è c'è una prova formale che è stata sviluppata da Rust mi pare si chiami e è chiaro che per fare cose che sono inerentemente unsafe tipo una doubly linked list non puoi perché è un safe di base è un garbage collector per fare una cosa del genere o è rotto di by design esatto quindi il meme è che devi sempre scendere a usare unsafe ma in realtà il punto fondamentale è che fai una libreria che te la nasconde quindi tutti gli usi della libreria poi sono safe se la libreria è stata scritta a modo quindi mi stai dicendo che mano a mano che vengono scritte librerie il nostro problema sta andando a che a livello di sviluppo di applicazioni se stai usando safe lo stai facendo sbagliato grazie bello che vi rispondiate è stupendo vi invito a tutti i talk che faccio è stupendo avete altre domande? beh sì vista la maglietta un pochino mi preoccupo però per il resto non lavori per facebook? ok ok quindi sei qui in incognito dovresti nasconderti mi sembra molto in incognito no scherzo scherzo no no grazie anzi se non sono in incognito lo sto facendo male no scherzo figurati poi ti faccio conoscere un amico non so se hai conosciuto Carlo Becna va bene se non avete domande grazie mille per essere venuti vi aspetto al butto se volete fare due prove e via grazie mille grazie mille